Manna! Inazuma Eleven o miru tokiwa, hea o akaruku ste chikazuki suginayouni stemiyo! La sua mano di luce è come un muro Noi del reno vinceremo E non ci lasceremo mai Axel è un attaccante vero Il nado di fuoco è il suo tiro Ed il nostro obiettivo È vincere il football frontier Ognuno ha un colpo che imparato lui ha Da una squadra che nel cuore sembrerà Perché devi lottare con la forza che hai Così la tua partita vedrai Che vincerai Corri e salta dietro un pallone Immagico il tuo gioco rendere potrai Corri e salta dietro un pallone E corrono con lui i sogni che tu hai Corri e salta dietro un pallone Finché il rete non andrà Finché il rete Finché il rete non andrà Ragazzi come certo saprete domani giocheremo il primo turno E la nostra avversaria sarà la Shuriken Juniorai Sono quelli che hanno aperto la sfilata durante la cerimonia di apertura Ma oggi pensate soltanto a rilassarvi Domani dovete essere al meglio della vostra condizione Sì! Il football frontier L'allenatore della Shuriken è il preside Sammy Gajima E si dice che sia il discendente di un valoroso ninja Ninja hai detto? Esatto! Si racconta che per allenare i suoi giocatori Usi delle tecniche ninja Delle tecniche ninja? Ho capito bene Ragazzi io vorrei proprio sapere che tipo di calcio giocano Non so che dirti Come ho detto sono soltanto voci Non importa qualunque sia l'avversario Si tratta pur sempre di una partita di calcio E noi ragazzi daremo il massimo come abbiamo sempre fatto Dobbiamo soltanto crederci Se ci impegniamo possiamo battere qualunque avversario Su ragazzi è ora di allenarsi Ho appena ricevuto un messaggio da Nelly È rivolto ai ragazzi della Raymond Mi dispiace di non poter essere presente come manager A una partita importante come il debutto al football club Io certe volte Nelly non riesco proprio a capirla Era un incoraggiamento o un ordine? Sì la nostra Nelly si esprime sempre in questo modo un po' strano Forza coraggio Sono certo che alla fine la Raymond vincerà La Raymond vincerà! Faremo vedere a tutti chi siamo Non vedo l'ora di giocare Sì la faremo Sì siamo fatti Nessuno può fermarci Ehi Nathan! E che c'è? Come va con quella matricola della squadra di atletica? Ti riferisci a Miles? Le parole non bastano Non lo convinceremo mai coi bei discorsi Ed è per questo che proverò a convincerlo coi fatti Giocando a pallone Ma allora? Esatto Oggi pomeriggio sono venuto qui perché ho deciso che voglio giocare Dici davvero? E che cos'è che ti ha convinto? Credo che solo mettendomi alla prova Riuscirò a trovare anch'io tutte quelle risposte che sto cercando Allora andiamo subito a cercare quelle risposte Ti raccomando contiamo tutti quanti su di te Sì Ma che ti ha preso Kevin? Eh Jack Per un momento mi è sembrato un gigante Beh probabilmente è perché sono grosso Difesa fantastica Jack Poco fa hai mostrato una carica davvero incredibile Oh sì? Non mi prendi in giro vero? Voglio vedere quell'energia anche in partita Avanti voi Coraggio Fatevi sotto Axel è tua! Come ti chiami? Non sono obbligato a dirti il mio nome Cosa? Sono qui per te Blaze Ho intenzione di sfidarti Che cosa? Ho sentito parlare molto di te In giro si dice che sei un bomber fenomenale Tu chi sei? Mi chiamo Sail Blue Sea e gioco nella Shuriken Junior Eye Finalmente ti sei degnato di presentarti? La Shuriken Junior Eye? Ma sono i nostri avversari di oggi Sono pronto a dimostrare di essere il più forte Perché non stabiliamo chi è il migliore tra noi due? Facciamo una gara a tutto campo E vediamo chi è il più veloce e il più bravo nel dribbling Allora che te ne pare? Non ne ho voglia Sei seccante Che cosa? Rifiuti la sfida? Sei solo un coniglio A chi hai detto coniglio? Non sto parlando con te E tu credi che io me ne stia fermo a guardare mentre offendi il mio amico? E va bene Sono pronto ad accettare la tua sfida Mark cerca di mantenere la calma La cosa migliore che puoi fare è ignorarlo Ma lo hai sentito? No Nella nostra squadra il più veloce sono io Quindi tocca a me sfidarlo Ma come sarebbe Nathan? Prima hai detto che dovevo ignorarlo E ora invece... E tu chi sei? Come ti chiami? Non sono obbligato a dirti il mio nome Eh? Occhio per occhio Interessante Ti farò mangiare la polvere, vedrai Bene, adesso guarda e impara Ti darò un saggio di velocità pura Dà una lezione a quella arrogante! Siamo tutti con te e Swift! Fa del tuo meglio, mi raccomando! Pronti? Ehi, quel ragazzo è proprio veloce Almeno quanto Nathan Guardate che corsa, è davvero una lepli Non scherzavi dicendo di essere veloce Ma nel calcio la velocità pura non basta da sola Ci vuole il controllo di palla Ma da dove sono usciti? Piantala di fare il fenomeno, Sayle Quando imparerai? Il calcio non è uno sport individuale Si gioca sempre al servizio della squadra Uffa, ok, ho capito Mi ricorderò di te, ragazzo Aspetta... Ti chiami Swill, vero? Sono Swift! Vi prego di perdonare l'arroganza del mio compagno Ehm... Certo! E ora, scusate! Ma dove sono? I ninja! La Shuriken Junior High A quanto pare i loro giocatori sono tutti veloci Almeno quanto il nostro Nathan Benvenuti al Football Frontier Che ogni anno ci regala grandi momenti di sport Qui al Frontier Stadium stiamo attendendo con impazienza Il fischio d'inizio della gara La sfida vede di fronte la Raymond e la Shuriken Vedremo se sapranno onorare la gloriosa tradizione di questo grande torneo A inizio il match Ottimo spunto di Blue Sea Che intercetta il pallone di Dragonfly E punta dritto verso la porta difesa da Ivas Non è possibile! Soddisfatto? Questo era il ninja dribbling della Shuriken Un dribbling assurdo! Ha dell'incredibile! Ha dell'incredibile! E questo era soltanto un assaggio Ha dribblato Nathan con una facilità irrisoria È un vero fenomeno Ci è mancato davvero poco Da non credere Ma come ha fatto? Quell'attaccante è decisamente un osso duro Ora la Raymond sta avanzando con Grim lanciato sulla fascia Prepariamoci! Shuriken schema numero 7 Modulo a ventaglio! Va bene Modulo a ventaglio Sì! Sì! La Shuriken ingabbia Grim e Blaze Con un rapidissimo riposizionamento Mostrando un'ottima organizzazione in difesa Axel, tua! Blocco difensivo insuperabile! Via! Che cosa? È pazzesco! Nathan avrà davvero vita dura I suoi avversari sono fortissimi Il nostro allenamento basato sulle antiche tecniche ninja Sta dando ottimi risultati Il calcio in stile ninja Mi sembra un concetto decisamente interessante Sono sicuro che non ci annoieremo Finora le due squadre si stanno mostrando Più che degne di questo prestigioso palcoscenico Sul fronte del gioco per ora La Shuriken sembra imporre un certo predominio DRAGON! TORNADO! Shuriken! Ciclone incrociato! Shuriken! Illusione ottica! Ma come? I miei ragazzi hanno assimilato a meraviglia Tutte le tecniche ninja che ho insegnato loro Se questi poveri illusi sperano di batterli Si sbagliano di grosso Walsight si porta in attacco Forse per eseguire il trampolino in azuma Shuriken! Schema difensivo! Ragnatela! Incredibile! Walsight si ferma di colpo E sfuma così una promettente azione offensiva della Raimon Il risultato resta fermo sullo 0-0 Accidenti! Ci stiamo provando in tutti i modi Ma non siamo ancora riusciti a segnare Eppure dobbiamo assolutamente passare in vantaggio Ora vado in attacco Attenzione! Swift si lancia in avanti Nathan! Shuriken! Ombra avvolgente! Si sarà fatto male Ilfort conquista il pallone e fa partire il contropiede Tiro ninja a polanga! Che cosa? Pugno di fuoco! Goal! La Shuriken passa in vantaggio! Accidenti! È stata una brutta caduta Per fortuna Per fortuna non sembra essersi fatto tanto male La squadra di Misteri Gajima continua a premere alla ricerca del radoppio Shuriken! È del tutto imprevedibile! Le squadre che partecipano al campionato nazionale sono di un livello decisamente superiore Sono sicuro che se vogliamo possiamo batterli Se il primo tentativo va a vuoto se ne fa un altro E se va male anche quello si prova una terza volta Bevi? Dovete assolutamente reidratarvi Grazie Mark! Che c'è? Dammi la mano Quanta gonfia! Presto, sedia! La cassetta del pronto soccorso! Sì! Vado! Volo! Hai continuato a giocare con la mano in questo stato? Tranquillo, non è niente È solo un po' gonfia Posso giocare senza problemi Ma sei sicuro? Ecco, così dovrebbe andare Grazie Ragazzi, dobbiamo proteggere Mark a tutti i costi Sta tranquillo, non passeranno Da adesso in poi la porta non la vedranno nemmeno col cannocchiale Anzi, non supereranno neanche il centrocampo Finora Mark si è sempre sacrificato per il bene della squadra E adesso la squadra ha il dovere di proteggerlo Nel secondo tempo non dovrei toccare nemmeno un pallone, capitano Che posso dire? Quando gioco a calcio Sono in perfetta sintonia con i miei compagni Siamo una squadra Condividiamo le stesse emozioni Il dolore La gioia Ed è per questo Che adoro il calcio La ripresa si apre con una serie di azioni di attacco della Shuriken Non riuscirete mai a segnare un altro gol Mi hai capito mai? Che grande determinazione Non immaginavo che avesse tutta questa energia Quel ragazzo ha davvero del fegato Bene, passate alla strategia Shuriken Del cuneo perforante I giocatori della Shuriken hanno formato un cuneo E sembrano inarrestabili Che succede? Jack, bloccalo, devi fermarlo Sono rimasto l'unico in difesa Ora segnerà Non ti permetterò mai di segnare un altro gol Ma non è possibile Una muraglia vera e propria Si è innalzata a protezione della porta di Evans Ce l'ho fatto Bravissimo, Jack Sei stato davvero magnifico L'azione non è ancora finita Ora vi mostrerò tutta la mia potenza Lucy ha riconquistato la palla E ora sta per tirare Tiro ninja a volante Mano di luce Mano di luce Hai battuto Bravo Nathan Senza di te la palla sarebbe entrata in porta E ora l'instancabile Swift riparte subito in contropiede Nathan Ora capisco perché hai insistito per farmi assistere alla partita Qui sei finalmente libero di esprimerti al meglio È tutto inutile Stavolta non mi fermerai Accidenti è passato Grande Nathan Questa volta non ti fermeranno Axel ci sei? Sì Ali di fuoco Goal Goal Evviva La Raymond pareggia grazie a una prudezza di Axel Blaze e Nathan Swift È un incontro fantastico Alla grande Non ci voleva Siamo ormai alla fine di questo entusiasmante incontro Non ti illudere, vinceremo noi Forza, vieni a prendermi Dove credi di andare? Non sei abbastanza veloce Ma nel calcio non basta essere veloci Non lo hai detto anche tu Che cosa? Axel! Tornado di fuoco! E l'arbitro fischia la fine Proprio allo scadere la Raymond si aggiudica questo primo incontro Le due squadre hanno offerto un grande spettacolo Questa partita sarà ricordata come una delle migliori nella storia del torneo E così mi hai battuto i miei complimenti Ottima partita Però non vedo l'ora di affrontarli nelle finali del torneo Sei stato bravissimo Specie quando hai dribblato Blue Sea Il pallonetto che gli hai fatto è stato davvero qualcosa di magnifico Per non parlare del salvataggio sulla linea Lo capisci adesso? Miles, per me il calcio è troppo importante Ora lo so Bastava osservarti mentre correvi dietro al pallone Mentre ti vedevo giocare su quel campo Ho capito che è questa la tua vera vocazione Correre sulla pista di atletica è divertente Ma nel calcio vivi un'emozione unica Fai parte di un collettivo Darei tutto per i miei compagni E anche i miei compagni si farebbero in quattro per me E credo che sia proprio questa la strada che voglio intraprendere Certo E se questo è il tuo sogno fai bene a seguirlo fino in fondo E io farò sempre il tifo per te Grazie Miles, sei un amico E spero che ogni tanto potremo tornare in pista a correre insieme Ciao E tuo padre? Sta un po' meglio Sta molto meglio, grazie Che bella notizia Sì Che hai fatto? Questa, dici? Una piccola botta, nulla di grave E abbiamo vinto il nostro primo incontro nel Football Frontier Abbiamo vinto! È meraviglioso! Ti meriti una medaglia, visto come è ridotta la tua povera mano Davvero, è una sciocchezza Mi hanno visitato e mi hanno detto che tra un paio di giorni la potrò muovere di nuovo Mi fa piacere! Anche perché, dopo tutto, sei l'unico portiere che abbiamo in squadra Mi fai venire in mente quel vecchio detto niente pollo, niente brodo Pollo? Ehi, a chi hai dato del pollo? Ti ho paragonato a un pollo, è diverso Fammi capire meglio, secondo te io avrei la faccia da pollo, vero? Uffa, ma proprio non ci arrivi! Non puoi offendermi soltanto perché sei la mia manager Ma io non ho offeso nessuno Ti ho sentito benissimo Certe cose non cambieranno proprio mai Non è così Era un paragone, certe volte sei proprio testardo, sembri un mulo Come? Un mulo hai detto? Adesso, adesso mi hai dato anche del mulo Intendevo testardo come un mulo Oh, che pazienza Oh, che pazienza Oh, che pazienza Oh, che pazienza Ah, che pazienza Oh, che pazienza Grazie a tutti!